ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi giochiamo d4 b6 la difesa owen che ha il fiore di 3 d6 che schifo vabbè probabilmente vorrà fare una specie di difesa ipopotamo forse cavallo di 7 lo scopriremo solo vivendo yes ok in questo caso contro questa apertura simmetrica parecchio noiosa ma priva di debolezze evidenti che appunto questo ipopotamo la cosa figa di questa apertura che per il nero è che può anche giocarla tutta in pre move tanto nulla non posso arrivare a contatto con le sue cose non posso impedirgli di far niente nel frattempo io mi sono conquistato completamente il centro lui cercherà di reagire attraverso queste mossettine vabbè d5 qua si può mangiare col pedone c rientrando in uno schema tipo benoni oppure col pedone e rientrando in qualche schifezza ovviamente ne piacciono le schifezze posso pensare di giocare alfiere h6 a posizione molto comoda per il bianco come si può immaginare un'apertura per il nero così rinunciataria non non può essere molto buona ok alfiere 5 possiamo mettere alfiere in h6 e sperare di fare qualcosa oppure anche in g5 why not siamo a dare fastidio a questo cavallo ok su f4 cosa che mostra che sembrava molto forte perché se l'alfiere si ritira c'è il cavallino e 7 impresa purtroppo c'è alfiere di 4 scacco che ci rovina un po i piani vediamo se c'è un modo di farla funzionare ma non credo vabbè facciamo ora h1 vediamo se non si accorge di questa f4 dubito infatti ha spostato il cavallo ok cavallo f5 non lo so mi sembra vabbè vado d'ignoranza sacrifico la torre la qualità per per l'alfiere è una massa che mi sembra logica legittima perché in questo modo si si vede si vedono molto di più le le debolezze sulle case scure del nero in particolare se riesco a portare la donna in h6 ho quasi vinto per ora c'è il cavallo in f5 che mi dà fastidio diciamo che è un sacrificio di natura molto posizionale in questa partita mi sembra che l'alfiere delle case scule valga di più della sua torre in a8 per esempio vediamo se avrò ragione speriamo anche il cavallo che può andare in e4 è veramente forte secondo me vediamo come andrà a finire se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco allora vienici a trovare all'interno dell'accademia di matto scacco caboni 1987 egiziano forse sì questa volta l'ho beccata cavallo g7 vuole fare cavallo h5 per togliermi l'alfiere però che posso anche mangiarmi questo anzi donna h6 ora che ha tolto il cavallo che difendeva la casa ok cavallo e8 e adesso cavallo e4 ancora questo cavallo non può mangiare l'alfiere perché rimangerei col mio con doppio ma tra le altre cose il re sarebbe costretto a venire in h8 e darei matto in h7 con la donna difesa dal cavallo qui una posizione estremamente difficile per lui nonostante il materiale in più perché perché non non può fare niente secondo me non può fare assolutamente niente il cavallo non lo può togliere perché c'è il matto in g7 e questa torre non la può muovere perché non può muovere il cavallo l'alfiere boh non vedo grandi grandi manovre a parte questa che forse è la cosa che vuole fare vediamo se farà in tempo non credo torre 1 probabilmente un piano malefico col quale vincere questa partita maybe alfiore c8 la mossa che mi aspetto ma più che altro per insufficienza di mosse tra l'altro su alfiore c8 magari posso anche fare d6 sfruttando il fatto che il cavallo non si può spostare e vediamo che succede che succede vabbè magari d6 la posso fare anche dopo nel frattempo provo a portare anche questo questa torre in gioco e adesso gli facciamo un piccolo trucchetto però vediamo se se è un avversario attento che è il minaccio torre per f5 qua seguita da g per f alfiore donna g5 scacco cavallo g7 e donna per g7 matto ok su questa alfiore per e4 abbiamo questo sacrificio di donna molto figo quindi adesso abbiamo qualità pezzo e donna in meno seguirà torre h3 e torre h8 matto nulla da fare per lui questo alfiere è stato veramente mortale per la sua posizione quindi la partita finisce in questo modo siamo arrivati a 1800 punti e presto arriveremo a non so se ci arriveremo mai a 2000 perché non so se sono in grado di arrivare a 2000 commentando in questo modo speriamo ragazzi spero che vi sia piaciuta ci vediamo alla prossima al prossimo video e ora per continuare che cosa posso fare? beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao ciao